Buongiorno a tutti, sono Domenico Cuomo, il mio personaggio è Cardiotrap. Ciao a tutti, sono Giovanna Sannino e interpreto Carmela. Salve a tutti, io sono Antonio Refice, il mio personaggio è Antonio, cioè Toto. Sono Vincenzo Ferreira e sono Beppe. Ciao a tutti, io sono Alessandro Rei e il mio personaggio è Mimmo, grazie. Buongiorno a tutti, sono Clara Soccini e il mio personaggio è Giulio, un nuovo personaggio. Ciao a tutti, sono Clotilde Esposito, nella serie sono Silvia. Ciao a tutti, sono Serena Codato e nella serie Gemmo.